ciao a tutti ragazzi oggi riprendiamo un gioco che di cui avevo già fatto il video ma questa volta come potete vedere dal mio compagno fidato bozza 97 stavolta giocheremo in cooperativa siamo solo io e lui ma in realtà si potrebbe giocare anche in 4 se non mi sbaglio allora se volete giocare in cooperativa o comunque provare il gioco se non l'avete ancora provato andate in descrizione cliccate sul link gioco arriverete sul mio sito e lì troverete tutte le istruzioni per provare anche voi questo gioco sia se volete giocare in single player sia se avete qualche amico con cui provare che secondo me è la cosa ideale questo gioco in cooperativa allora andiamo a fare la missione che ci hanno dato adesso c'è quel punto sulla mappa questo video ovviamente è solo per farvi vedere che il tutto funziona allora dobbiamo salire sul tetto ma sai si infatti sto trovando qualche modo dovrei rampicarmi ok mi salto qua mi salto sul tetto e adesso vediamo se è secolato in corso ad arrivare va bene qui dobbiamo salire sul tetto no ah va bene ah ecco qua ah mi aspetta subito sulla cazzina il nome del capo della torre è Brecken e non è lui il vostro uomo c'è un altro tipo sospetto un boss del posto fa chiamare Rais incetta di Antizin e poi spreme come limoni chi ne vuole comprare qualche cosa allora ovviamente giusto per rimanere in tema del periodo siamo in quarantena su un'isola piena di zombie beh giustamente ok bene andiamo dovevo andare adesso faccio un blatt a raggio morbido eccoci qua se amate il parkour questo è il gioco che fa per voi ovviamente è meglio evitarli inizio io faccio evitare di correre troppo è giusto per farvi vedere ne ammazziamo uno si andiamo a prendere uno io prendo questo qui che ti sta ammazzolando rifugio no è altino bello questa zona già l'ho capito bene che dobbiamo fare è morto cerca rifornimento aereo nell'area allora dobbiamo cercare sto rifornimento direi di dividerci perché forse non è che stanno i fusi inattivo no penso che poi si sblocca da dove ho trovato una cassa sembra intatta guarda ho trovato una cassa dove l'ho trovato sta cassa l'ho trovata lui o no dov'è ho trovato una cassa ci stanno dei puntini verdi ma questa qua posso attivare una troppa ah ecco ho trovato una cassa poi eh ma non è questa minimo a setacciare ah sei tu io sono uno zombie che ti vede a a mangiarti per cena attiva troppo la luminosa allora non è quello che ci interessa ah comunque ce l'ha tolto ah ecco qua ho trovato una domanda quello che come sapere come saranno qua sopra ah cosa abbiamo da qua giù da qua giù ok però abbiamo un po' di visite dai zombie appunto vai vai se non ti ammazzo da dei zombie così io vado una bella arrampicata ecco qua ecco qua eh ma qua dobbiamo andare ecco qua sta qua la cassa sul tetto aspetta ti dove sta ah sto qui apri eh saltiamo la cutscene no vabbè facciamo vedere funzionando ok è vuoto eh e la e la eh dobbiamo arrivare là su eh in su come saliamo là su io sono il sbaglio dove trovo questi punti di ferimento per salire su quel punto ma non ricordo esattamente come ok intanto do cominci a scendere giù oh oh cazzo dove stai oddio mio quel tetto è pericolante è pericolante sto detto oddio mio dove devo andare eh proviamo ad andare direttamente da qua vieni con me vieni da me arrivo arrivo no qua ecco ah da questa parte non toccare questo youtube dove c'è non metterci un cattelolo di tt non toccare questo non toccare questo non toccare questo palo forse dobbiamo salire quanti zombie stanno qua eeeh quella domanda dobbiamo scendere no ciao salve ciao è duro è duro oh oh aiuto sono un po' stanco eh scappiamo si che non sforzarti troppo altrimenti è normale che non ce la fai il personaggio a reagire spongo spongo si è consumata la mia arma si è consumata quindi devo cambiare ma mi sa che dovremmo restare sul punto sono stanco eh non sforzarti quindi è venuto a R per riparare l'arma vabbè questo succede quando si consuma l'arma e diventa inefficace vabbè io lo so camminando perché ok ora dobbiamo curare no no non voglio tornare indietro a me non dice che dobbiamo tornare il dito quindi possiamo ancora continuare no vabbè quello lo dice per dire perché di notte non dovresti stare in giro ahi mi sono fratturato una gamba ah sono caduto porca dobbiamo scendere giù mi sa ah ahia ahia mi sono rotto la gamba ahia parca ahia è una seconda che mi sta ammazzando la gamba dobbiamo cercare la cassa ok vado dividiamoci e cerchiamo vediamo se riusciamo a tornare se ne trovi una avvisami che vengo da ti allora oh ho trovata vieni ho trovata viva e deve stare intanto ti libero un po' la strada che sarà un po' di zombie finiscili tu oh fai tu questo sta questo ti alza ancora sto ok oh è un muro ok basta lo ho già avanzato bruttamente finalmente le provviste da amazon questo è il vaccino esatto bene questo apre un nuovo spiraglio nella tua operazione dovrei concentrarti su raiz ascolta attentamente raiz potrebbe essere il nostro uomo quindi se trovi delle scorte di anti-zin distruggi cosa? ma perché? costringerai Brecken a trattare con raiz così potresti diventare una specie di ambasciatore della torre forse abbiamo una visita in più è ancora finita questi questi corrono devo prendere sulla torre aiuto il mio pesante si sta stancando aia ah merda non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio oh mio mi sto mettendo a sforzo sulla mia vita perché questo non si gira di notte? oh no oh no non ho quel bestione non quel bestione oh mio mio non ho quel bestione mi sto attaccando il personaggio aia aia adesso ha ok a posto come si fa? vabbè siamo entrati entra io sono dentro sono dentro il gioco di notte che bella guida vabbè ragazzi io direi di fermarci qui e dove sei? aspetta salevano sopra giusto per sicurezza ok eccoci al sicuro nella torre vabbè ragazzi il gioco è bello da giocare soprattutto in compagnia giocherete tutta la campagna insieme ad un vostro amico ma potrete anche giocarci da solo se non avete amici con cui giocare comunque sia se vi sono stato utile iscrivetevi al canale mi raccomando lasciate un like sotto al video se vi va io e Bozza97 vi salutiamo bella a tutti raga e ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao